buongiorno a tutti amici ancora con la mia precaria voce utilizzando un po di questi mazzi allora ho preso gli arcani maggiori in un mazzo poi i tarocchi della tipice idea ho preso quelli minori e poi le sibile volevo un po fare un po di misto oggi in salata mista di lame per così fare una variante unica un po diversa e la domanda è questa mi farà gli auguri in questi giorni di festa quindi la persona del mio cuore quindi calcolando tutte le feste da da natale alla befana se insomma la persona che a me interessa mi farà gli auguri insomma si farà viva con un messaggino anche un semplice sapete quelle immagini che si mandano su whatsapp già fatte no anche se inserire una parola un qualcosa un qualunque messaggio di vario tipo quindi vediamo magari essendo una variante unica verranno fuori diverse cose vediamo in base a cosa cosa viene fuori e ovviamente poi mi farete sapere alla fine delle festività se la persona che vi interessa vi ha fatto noi gli auguri quindi ovviamente essendo poi tantissimi in base a può venire fuori qualunque cosa no però vediamo insomma vediamo se questa persona insomma ci farà gli auguri mi metto in mezzo anch'io perché anch'io una persona di cui mi chiedo se mi farà gli auguri allora io partirei adesso metto da parte queste queste un po le riprendo che le voglio usare tutte partiamo con gli arcani maggiori vediamo di aprirla stesa vediamo che situazione c'è che aria tira con questa persona quindi se questa persona vi farà gli auguri ci farà gli auguri in questi giorni di festa oppure no vediamo le forze superiori cosa ne pensano di tutto ciò vediamo se sanno darci un indirizzo prendo tre arcani maggiori li apro tutti insieme e questi li metto qua poi prendo una di queste sibille una sola magari vediamo se viene fuori lei se tiro fuori io vuoi dire fuori tu vediamo se magari ecco questa qua ok voleva parlare la mettiamo qua e poi prendo da questi darocchi della triplice idea da cui ho già tolto gli arcani maggiori se no potevano venire fuori i doppi arcani maggiori ma tanto li abbiamo nell'altro mazzo prendo altre tre carte da qua vediamo se vengono fuori anche loro che vogliono eccola qui una se vogliono dirci qualcosa tra queste ok due un altro ne voglio prendere tre allora vediamo poi eventualmente qua ce n'è tiriamo fuori qualche altra roba però volevo giusto vederle così allora guardate facciamo così le metto così poi ovviamente se non si vedono poi ve le faccio vedere tutte una veruna allora abbiamo la papessa il giudizio l'eremita le tiro la speranza abbiamo la regina di denari un personaggio femminile due personaggi femminili sono venuti fuori l'asso di coppe l'ultima carta il cinque di bastoni non so se riuscite a vederle tutte vediamo le metto così eventualmente poi questa qua la metto qui così se non si vede magari le metto più in qua non so l'inquadratura come le fa vedere però vabbè sono molto belli questi queste lame della triplice idea mi piacciono tanto allora abbiamo qui due personaggi femminili una siete voi e l'altra è l'altra donna quindi devo presumere che qui abbiamo sicuramente nella maggior parte dei casi di voi che state guardando un triangolo amoroso questa regina di denari potrebbe anche essere la un'altra persona potrebbe essere anche la madre della persona di cui volete sapere potrebbe essere la sorella potrebbe essere una collega un'amica però per come sono messe le carte per la maggior parte di voi perché sono uscite una sopra l'altra vedete le due donne credo che siate una voi e l'altra l'altra donna quindi che voi sia ovviamente se voi siete la donna ufficiale siete la regina di denari se voi siete l'altra donna siete la papessa perché la papessa è di solito l'altra donna quella di cui non si sa la donna che rimane nell'ombra ok la regina di denari mi fa mi dà l'impressione di una donna cioè molto sul materiale quindi per quello mi viene da dirvi che la regina di denari è la donna ufficiale mentre la papessa siete voi eh per come vedo le carte che poi siete uscite una sotto l'altra chiaramente come vi dico la regina di denari potrebbe anche essere se voi sapete che questa persona non è impegnata non ha una relazione sentimentale ufficiale ovviamente può anche essere la mamma un'amica potrebbe anche essere l'ex moglie in base alla vostra situazione leggetelo come più vi in base alla vostra situazione qui abbiamo vediamo che questa persona eh qui io non vedo l'unica carta che vedo che fa pensare all'amore è questo asso di coppe ok l'asso di coppe che indica appunto eh il desiderio eh dell'amore della felicità eh il desiderio di offrire eh questo amore vedete questa coppa che trabocca cioè eh c'è quest'acqua qui che trabocca da questa coppa quindi eh il desiderio di eh questa persona di portarvi il suo amore eh la sua voglia di voi insomma questa persona vi desidera vi vuole quindi è evidente che questa persona vi ama eh e spera con questo eh Sibilla ci dice che spera e sa che voi sperate di poter stare con lui o con lei eh la carta dell'eremita mi fa pensare che forse non vi state vedendo in questo periodo perché indica appunto una persona che sta riflettendo che fa una serie di riflessioni che si isola per fare queste riflessioni che gli porteranno sicuramente beneficio ehm di voi questa persona in questo periodo sa poco probabilmente non sa ehm molto di quello che state facendo forse vi guarda sui social però non sa molto di voi di quello che state facendo ehm e probabilmente ha paura che voi eh diciamo non pensiate più a lui o a lei se siete uomini ha paura di perdervi ed è per questo che si è risvegliato dal suo torpore con questo giudizio ha deciso di risvegliare la sua anima ok ehm il giudizio ehm mi fa venire in mente anche una persona che si risveglia è un risveglio più dell'anima che del corpo una persona che a un certo punto è stanca della sua vita di quello che sta facendo di quello che ha fatto fino eh a quel momento e quindi vuole risvegliarsi è arrivato il momento per questa persona probabilmente dopo attenta riflessione con questo anima di risvegliarsi alla vita e ricominciare una nuova vita con voi però perché lui ama voi con questa donna vi dico perché perché la papessa è accanto alla carta del risveglio quindi è voi che lui vuole che con voi che vuole ricominciare una nuova vita per lui contate molto mentre vedete che l'altra donna che sia la donna ufficiale o no in base a chi siete voi è in secondo piano quindi siete voi che lui vuole qui questa bella carta fa vedere delle persone che litigano tra di loro in realtà questa persona non sta litigando con delle altre persone ma con se stesso perché sinceramente non sa cosa fare magari con questa donna anche dei figli e ha paura da una parte di perdere voi dall'altra di perdere la stabilità familiare che ha con questa donna la vita che ha costruito negli anni e quindi vediamo intanto adesso se questa persona farà il passo di diciamo mettersi in contatto con voi quindi di farvi questi auguri e poi che tipo di passo farà lo vediamo con queste carte qua prendo qualche carta di qua vediamo se farà oh mamma cate tutto se farà questo passo quindi se vi farà questi auguri questa persona ve li farà dunque questi auguri si farà viva oppure rimarrà ancora lì chiedersi il perché il non perché guardate è venuta fuori questa carta da sola perché stavo giusto dicendo quindi questa persona ancora si fa tante domande tante forse troppe domande sul rapporto che ha con voi prendo quest'altro mazzo vediamo un attimo prendiamo questo degli specchi quindi questa persona ancora si sta chiedendo ma anche questa carta del conflitto me la faceva pensare dei conflitti si sta ancora chiedendo se o no siamo alla vigilia di Natale e questa persona ancora si sta chiedendo se è il caso di farvi questi auguri pensate un po' vediamo queste carte degli oracoli degli specchi che altro ci dicono questa faccenda cosa dite voi questa persona si sta ancora facendo delle domande mi esce la carta della vittoria quindi alla fine dopo attenta riflessione deciderà di farvi questi benedetti auguri ok allora però qua bisogna capire perché innanzitutto dipende voi come la prenderete perché magari alcuni di voi hanno deciso di chiudere la storia comunque sia quindi risponderanno con un altro con un'altra immaginetta di queste qua che dipende però può anche darsi che questa persona oltre agli auguri vi scriva qualcos'altro quindi in quel caso lì magari poteste prendere in mano la situazione nel senso che siccome vedo tutti questi dubbi allora state bene attente al tipo di augurio che vi arriva allora se non vi arriva non vi arriva la situazione rimane così ma non vuol dire che è finita se invece vi arriva l'augurio come dice questa carta penso che la maggior parte di voi state guardando che l'augurio arriverà fate bene attenzione al tipo di augurio che vi arriva nel senso che se vi arriva l'immagine sapete quelle immagini così che si mandano a chili io vi consiglio di ricambiare con la stessa immagine ma di non fare altro perché non è un invito se viceversa vi manda un messaggio vocale e vi dice delle cose che voi sapete che possono essere importanti per voi allora cambia potete magari spingervi a rispondere con un altro messaggio vocale in tono con quello che vi ha mandato la persona attenzione quindi in base al tipo se vi mando un messaggio scritto fate bene attenzione a cosa vi scrive quindi non non infervoratevi subito pensando che chissà che cosa che il problema è risolto e vi andare no attenzione a come che tipo di messaggio cosa vi dice e tutto quanto perché tante volte ci si può sbagliare e prendere fischi per fioschi quindi vi consiglio di in base al tipo di messaggio che vi manda questa persona di rispondere in base a quello non andate a fare sogni esagerati ma cercate di toccare sempre con mano le cose ecco non fatevi dei film allora vi do adesso le iniziali del nome del cognome della persona ma prima voglio dirvi anche qualcosa che magari questa persona sta pensando di voi cosa pensi o tu uomo del mistero di chi della persona che aspetta i tuoi auguri vediamo cosa pensa questa persona cosa pensi cosa pensi ti ho incasinato la vita ecco sicuramente questa è una cosa che una parola che fa toccare i piedi per terra fantastico su di te questo è in dubbio sei bella come il sole del mattino questa persona mi vedo il te modo bellissime mi manchi ok non riesco ad aprire il mio cuore il mio cuore quindi queste parole sono in tema con tutto ciò che abbiamo detto prima vi do le iniziali del nome del cognome della persona s b n m c d a r v v di di vaso l'ultima l di luca ecco vedete voi se vi corrisponde qualcosa niente vi faccio tanti auguri di buone feste spero in qualche modo di avervi dato qualche suggerimento con questa stesa e noi ci vediamo la prossima volta un grosso saluto dalla vostra amica perla ciao ciao